Il monachesimo, un viaggio attraverso i secoli. Il monachesimo rappresenta un movimento religioso ascetico caratterizzato da ritiro dal mondo e dedizione completa alla vita spirituale. Nato nel tardo antico, ha avuto un impatto profondo sul cristianesimo e su altre religioni, plasmando la cultura e la società per secoli. Le origini del monachesimo, le radici del monachesimo si intrecciano con figure come Antonio d'Egitto, considerato il padre del monachesimo eremitico, e Pacomio, fondatore del cenobitismo, caratterizzato dalla vita comunitaria in monasteri. Questi pionieri perseguivano una vita di preghiera, povertà e lavoro manuale, cercando l'unione con Dio attraverso la solitudine e l'ascesi, espansione e diversificazione. Dall'Egitto, il monachesimo si diffuse rapidamente in tutto il mondo cristiano, assumendo forme diverse in Oriente e Occidente. In Oriente, emersero monasteri come quelli del Monte Athos, rinomati per la loro rigorosa disciplina e misticismo. In Occidente, invece, la regola di San Benedetto da Norcia divenne il punto di riferimento per il monachesimo latino, enfatizzando l'equilibrio tra preghiera, lavoro e obbedienza. Il ruolo del monachesimo nella società. I monasteri divennero centri di cultura e istruzione, preservando la conoscenza antica e favorendo la sua trasmissione. I monaci erano abili, contribuendo alla creazione di manoscritti illuminati di inestimabile valore. Inoltre, i monasteri offrivano assistenza ai poveri e agli infermi, svolgendo un ruolo fondamentale nella società medievale. Influenza sul cristianesimo. Il monachesimo ha avuto un'influenza profonda sul cristianesimo, contribuendo allo sviluppo della teologia, della liturgia e dell'arte sacra. Figure monastiche come Agostino di Pona, Tommaso d'Aquino e Giovanni della Croce hanno lasciato un'eredità spirituale duratura. Il monachesimo oggi, nonostante le sfide poste dalla secolarizzazione e dai cambiamenti sociali, il monachesimo continua ad esistere e ad attrarre persone in cerca di una vita consacrata alla preghiera e al servizio. Pacomio 290.373 dc, considerato il padre del cenobitismo, rivoluzionò il monachesimo introducendo la vita comunitaria in monasteri. Nato in Egitto, fu soldato e poi eremita prima di fondare il primo monastero a Tabennisi. La sua regola prevedeva preghiera, lavoro manuale e vita in comune, basandosi su obbedienza e povertà. Il modello cenobitico di Pacomio si diffuse rapidamente, dando vita a una rete di monasteri in tutto l'Egitto. Altri importanti pionieri, oltre ad Antonio e Pacomio, numerosi altri individui hanno contribuito allo sviluppo del monachesimo. Evagrio Pontico 345.399 dc, teologo e mistico, noto per i suoi scritti sulla preghiera e sulla vita ascetica. Simeone Stilita 358.434 d.c, monaco siriaco che visse per decenni su una colonna, divenendo un simbolo di ascesi estrema. Benedetto da Norcia 480 a 47 d.c, fondatore del monachesimo occidentale. La sua regola divenne il punto di riferimento per la vita monastica in Europa.Colomba di Sens 530 628 d.c, monaca irlandese che fondò monasteri in Gallia, contribuendo alla diffusione del cristianesimo in Europa. Doroteo di Gaza 500 588 d.c, abate palestinese, autore di testi ascetici sulla lotta interiore e la purificazione del cuore. Eredità duratura, l'influenza dei pionieri del monachesimo si estende ben oltre il loro tempo. I loro insegnamenti e le loro pratiche hanno plasmato la spiritualità cristiana per secoli, continuando a ispirare persone in cerca di una vita di preghiera. Semplicità e dedizione a Dio. Conclusione. Il monachesimo, con le sue diverse forme e tradizioni, rappresenta un ricco patrimonio religioso e culturale. I suoi pionieri, attraverso il loro esempio e i loro insegnamenti, hanno lasciato un segno indelebile nella storia del cristianesimo, offrendo una via di santità e di ricerca spirituale che continua ad attrarre persone di ogni epoca.